Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Monica Pelliccia. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana, in FIPILI per lavori di miglioramento su viadotto del turbone, possibili disagi tra Montelopo Fiorentino e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori, tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Prima di salutarci, ricordiamo che in conseguenza dell'emergenza sanitaria coronavirus nell'ottica di porre un limite ai contagi, raccomandiamo a tutte le persone di limitare, ove possibile, gli spostamenti ai casi strettamente necessari, secondo le indicazioni del nuovo decreto del Presidente del Consiglio. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!